Amici del Mirage New York oggi visitiamo assieme South Street Seaport qui è nato il primo porto di New York nel 1625 grazie alla compagnia delle Indie olandesi ed è una zona molto bella visitiamola assieme pochi lo sanno ma questo faro dietro di me è un memorial dedicato alla tragedia del Titanic come tutti sanno il Titanic doveva arrivare a New York ma non arrivò mai perché dopo aver colpito l'iceberg affondò qui dal 1822 al 2005 c'è stato il più grande mercato del pesce della East Coast venivano le barche dall'Atlantico scaricavano il pesce e lo vendevano proprio qui questo cinema dietro di me ha i picchi spettacolari con delle voltrone che si trasformano in letti riportano gli hamburger le patatine qualsiasi cosa dove vogliate in poltrona schermi immensi un'esperienza fantastica e per tutte le amiche c'è anche il negozio di scarpe di sala Jessica Parker una piccola chicca d'orgoglio italiano qua c'è 10 corso como è uno store immenso di oggetti per la casa di vestiti si può fare un giro all'interno questo edificio carino dietro di me è stato costruito nel 1790 è uno dei più antichi della zona questo palazzo con tutte le decorazioni terracotta è stupendo e fu costruito per 17 cioè il muro numero 17 è stato rinnovato la poco dentro il ci sono tantissimi vistoranti e c'è anche una terrazza su cui d'inverno si può anche pattinare con la vista del ponte di brooklyn oppure potete assistere a dei concerti all'aperto durante l'estate adoro sedermi su queste sedie con l'affaccio su wish river vediamo anche il ponte di brooklyn il ponte di manatta quando estate potete portare qualcosa da mangiare qui e godervi questa vista immensa la vista è davvero impareggiabile qui vicino partono anche gli elicotteri per fare il giro sopra la città che potete prontare con noi ma io credo che la cosa più bella è quest'acqua che ci circonda questo a mio fianco un veliero ad uso commerciale è stato inaugurato nel 1885 e da loro ha fatto quattro volte il giro del mondo e lo so può visitare il piano io e così abbiamo visitato south street seaport vi aspetto in agenzia ci vediamo ciao